All'indomani dei 241 casi positivi al Covid che hanno catapultato Chieti al primo posto tra i capoluoghi abruzzesi con più casi di contagio, i dati dicono che un positivo su due ha contratto la variante Omicron. Il contagio corre molto, tutte queste in realtà sono tecnicamente sospette Omicron, ma possiamo dire con certezza che sono reali Omicron. Sono arrivate in pochi giorni a essere da casi isolati a metà dei contagi e quindi verosimilmente sono la causa di questo diffondersi delle infezioni sul territorio. Il CAS analizza 2000 tamponi al giorno, anzi la metà dei tamponi di tutta la regione. C'è il rischio di sovraccaricamento, già si lavora in grande fatica, ma in vista del 31 dicembre cosa potrebbe accadere? Cosa chiedete? Sì, in realtà stiamo lavorando oltre quello che sarebbe la soglia massima per quanto riguarda le attrezzature che abbiamo, perché grossomodo noi potremmo lavorarne 1300 al giorno, quindi siamo decisamente sopra il numero. È chiaro che il problema grande è che ogni positivo poi si porta presso la necessità di tracciare decine di persone che sono state in contatto e quindi decine di tamponi per i giorni successivi. Ora quello che succederà è che chiaramente ci aspettiamo per Capodanno un ulteriore aumento, ma il sistema così non regge. Ovviamente non regge perché avere troppi tamponi vuol dire non riuscire né a refertarli in tempi utili e né poi a far fare il tracciamento dalla ASL in tempi utili, ma a quel punto si è persa totalmente l'utilità del sistema tampone. E si chiede anche una collaborazione ai cittadini, quindi cosa suggerisce e cosa devono fare i cittadini da oggi? Noi dovremmo arrivare ad avere dei percorsi diversi per i tamponi urgenti, quali per esempio il paziente che deve essere operato d'urgenza, per quelli che hanno avuto dei contatti e per quelli che invece fanno il tampone soltanto per precauzione. Ecco, quest'ultima categoria dovrebbe rivolgersi in prima battuta all'uso del tampone antigenico nelle farmacie o nei laboratori e poi solo in caso di positività vengono da noi per fare la conferma, perché altrimenti nel momento in cui sovraccarichiamo il sistema purtroppo quello che succede è che sia un rallentamento anche della refertazione del paziente che ha l'urgenza di avere il tampone perché sta male. Quindi purtroppo o creiamo dei percorsi differenziati per queste tre categorie o cerchiamo di non sovraccaricare il sistema. Quindi il mio appello è tutti quelli che vogliono fare il tampone, non perché hanno avuto oggettivamente un contatto ma solo per precauzione, per prudenza, facciano in prima battuta l'antigenico perché altrimenti il sistema collassa.